Oh Ivan, da ragazzetto ero un macello, io che donna non ci capivo un cazzo, pensa che ho fatto, una sera vado su al pincio con una macchina comincia a baciarmi, a toccare le tette, le tette per un'ora e mezzo, dopo un'ora e mezza questa mi fa, oh guarda che se vuoi puoi andare un po' più giù, eh. E tu che hai fatto? E che ho fatto? Sono andato giù a Piazza del Popolo.